benvenuti a scientificamente tg dello spazio e della scienza rosetta l'ultimo selfie prima dell'accometaggio lo scorso 7 ottobre la sonda rosetta ci ha regalato uno splendido autoscatto che la ritrae insieme alla cometa 67 p churyumov gerasimenko è l'ultima volta in cui vediamo immagini di questo tipo scattate con lo strumento siva destinato a sbarcare sul corpo celeste insieme all'ender file la prossima immagine che arriverà a terra è prevista per novembre dopo il rilascio di file sulla superficie del corpo celeste si tratterà di scatti realizzati sia al momento del rilascio quando l'orbiter si girerà verso la sonda sia durante e dopo la discesa il sito j che indica l'area dell'accometaggio è intanto in cerca di un nome il 17 ottobre parte il concorso bandito da esa portato avanti in italia da asia in apex dalla caccia ai segreti delle metropoli galattiche gli scienziati si sono messi sulle tracce della formazione stellare nascosta nell'ammasso della tela di ragno hanno usato lo strumento la bocca una camera montata sul telescopio apex per diradare la polvere in cui la formazione stellare era nascosta e hanno avuto una sorpresa hanno trovato quello che cercavano ma in un luogo diverso dal previsto questa megalopoli si sta sviluppando in modo asimmetrico ha spiegato helmut dannerbauer dell'università di vienna a capo del team che ha lavorato utilizzando i telescopi dell'eso a 5050 metri sul livello del mare gli scienziati si aspettavano di trovare le regioni di formazione stellare nei grandi filamenti che collegano le galassie invece l'hanno trovata concentrata per la maggior parte in una singola regione che per di più non è nemmeno centrata sulla galassia tela di ragno nel proto ammasso un prezioso tassello che va ad aggiungersi alla conoscenza dei fenomeni più grandi dell'universo aerospazio le possibilità di lavoro aumentano il settore aerospaziale continua a far registrare in alcuni suoi settori non solo un significativo progresso dal punto di vista tecnologico ma anche per quanto riguarda le attività di business e lo sviluppo occupazionale per far incontrare le istituzioni e gli operatori industriali pagnanelli risk solution ltd e l'università parte europea hanno organizzato un convegno che si svolgerà il 22 23 ottobre a napoli la due giorni creare opportunità di lavoro attraverso l'aerospazio che si svolge nell'ambito del semestre italiano di presidenza del consiglio dell'unione europea spingerà su tre temi l'aviazione generale i droni e il turismo spaziale saranno anche presentate le esperienze di successo di giovani start up soprattutto attive nel centro sud d'italia l'occhio del futuro vede a 36 colori si chiamano transfers field detectors e costituiscono un sistema in grado di migliorare di 12 volte le informazioni sui colori acquisibili dall'occhio umano e dalle fotocamere tradizionali ci riescono grazie all'uso di sensori al silicio realizzati al politecnico di milano combinati con una matrice di filtri multispettrali anziché con quelli tradizionali che usano solo i canali rgb rosso verde e blu in questo modo si può contare su un totale di 36 canali di colori il nuovo sistema è stato presentato sulle pagine di applied optics l'appuntamento con le notizie finisce qui vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento il dado è tratto la sonda rosetta rilascerà il lander file sul cosiddetto sito j della cometa 67 p churimov gerasimenko il via libera è arrivato direttamente dall'esa che un mese fa aveva individuato la zona per il primo acometaggio della storia segnate la data sul calendario perché il 12 novembre potrebbe finire sui libri tutte le attenzioni del mondo scientifico saranno concentrate su quell'area situata nel più piccolo dei due lobby della cometa dopo attente revisioni e analisi l'ok per il sito j ha dato il via alla fase più appassionante della missione alle 8 e 35 ora di greenwich la sonda rosetta si posizionerà a una distanza di circa 22 chilometri e mezzo dalla cometa e rilascerà il lander file l'accometaggio avverrà più o meno sette ore dopo la comunicazione del rilascio arriverà sulla terra in 28 minuti e 20 secondi questo significa che apprenderemo se la prima fase è stata eseguita non prima delle 9 03 e delle 16 se l'accometaggio ha avuto luogo adesso che sappiamo esattamente ciò a cui puntiamo siamo un importante passo che ci avvicina alla realizzazione di questa eccitante ma rischiosa operazione ha commentato il mission manager di rosetta fra jensen ma prima di quel momento sono ancora molte le fasi cruciali da affrontare vediamo di cosa si tratta il primo ok alla fase di accometaggio è atteso per l'11 novembre quando il team che sovrintende la dinamica del volo confermerà se la sonda è sulla giusta traiettoria per procedere al rilascio durante la notte tra l'11 e il 12 novembre sarà poi la volta delle decisioni riguardanti la preparazione e le interconnessioni dei comandi infine è attesa la conferma che il lander è pronto per la separazione una breve manovra per il posizionamento sarà eseguita più o meno due ore prima della separazione l'ultimo via libera arriverà poco dopo questo momento in seguito al rilascio di file rosetta farà una manovra di allontanamento dalla cometa prima di riorientarsi allo scopo di stabilire la comunicazione con il lander che dovrebbe avvenire due ore dopo il rilascio durante la sua discesa lunga sette ore file scatterà delle immagini e condurrà degli esperimenti su polveri gas e plasma intorno alla cometa non solo scatterà anche una foto d'addio verso la sonda rosetta in aggiunta a quelle del faccia a faccia con 67 pitch ultimo gerasimenco una volta arrivato sulla superficie file manderà immagini del paesaggio intorno a sé la prima sequenza di esperimenti scientifici sulla superficie avverrà entro un'ora dall'accometaggio e durerà 64 ore dipendendo dalla durata della prima batteria gli studi a lungo termine dipenderanno da per quanto tempo e quanto bene le batterie saranno in grado di ricaricarsi il che dipende anche dalla quantità di polvere che si depositerà sui sui pannelli la missione di file si protrarrà al massimo fino a marzo 2015 quando l'eccessiva vicinanza col sole alzerà così tanto le temperature da rendere impossibile la sua sopravvivenza invece l'orbiter contenerà la sua missione per molto più tempo accompagnerà la cometa nella sua evoluzione fino al momento di massima vicinanza con il sole che avverrà ad agosto 2015 quando insieme guarderanno fuori dal sistema solare rosetta è una missione dell'agenzia spaziale europea la cui avventura iniziata dieci anni fa ha vissuto momenti delicati rosetta primo fra tutti quello che ha previsto la sua ibernazione per un viaggio di 800 milioni di chilometri di gelo oltre l'orbita di giove lo scorso 20 gennaio si risvegliò dal suo lungo inverno e da allora la cavalcata verso la cometa è stata inarrestabile ora l'arrivo alla fase più eccezionale del suo viaggio quella che ci potrebbe svelare qualcosa in più sulle origini del nostro sistema solare